Per noi questa giornata e questo momento è veramente molto importante, la costruzione di uno spazio in cui riuscire a discutere di ecotransfemminismo e antispecismo è stata una decisione che abbiamo mutuato rendendoci conto di avere la necessità di comprendere meglio questi concetti. Per noi sarà anche molto importante il confronto sicuramente che ci potrà essere dopo insieme a tutti gli attivisti che arrivano da altre parti d'Europa e che probabilmente hanno anche molto da insegnarci in questi temi. Per noi sarà molto importante avere una confrontazione e un dibattito con tutti gli attivisti che arrivano da tutta Europa e tutta il mondo perché crediamo che hanno molto da insegnarci su questi temi. Ad esempio avevo utilizzato la desinenza U nella frase precedente perché l'italiano come molte altre lingue è assolutamente genderizzata, a differenza dell'inglese noi abbiamo bisogno di trovare una desinenza altra che possa essere davvero inclusiva per tutte quelle soggettività che non si riconoscono nel binarismo di genere. Per esempio, quando si parla in italiano, si parla molti aggettivi e numeri con la lettera U perché l'italiano è estremamente entrenched in gender, quindi ogni termine che usiamo è sempre genderizzata e per esempio l'inglese è diverso, non ha questo profondo entrenchment in gender, quindi dobbiamo trovare un'altra forma di costruire la nostra lingua per evitare questa cosa. Perché siamo consapevoli del fatto che anche il linguaggio e i termini che utilizziamo vanno a costruire il mondo che cerchiamo poi di praticare. Ovviamente anche oggi utilizzeremo, ognuna delle relatrici utilizzerà un linguaggio differente perché arriviamo da parti d'Europa ma del mondo anche molto distanti, per cui alcuni termini che noi magari nelle nostre lotte possiamo dare per scontati non lo sono affatto per esempio dall'altra parte dell'oceano. Allora, durante questa discussione ogni parola usa il suo stesso linguaggio, il linguaggio che è più preferibile perché le parole che gli altri movimenti e gli altri strutturi usano in loro parte del mondo sono molto importanti quindi potrebbero sbagliare a noi, ma sono estremamente importanti per la struttura delle persone che li utilizzano. Oggi cercheremo di capire quali sono le relazioni tra i soggetti che vengono quotidianamente utilizzati dal capitale per poter crescere e qual è la relazione che c'è tra questi soggetti e l'ambiente, la cosiddetta natura che come ben sappiamo non è affatto un termine neutro ma un termine costruito anch'esso, politicizzato. Quindi oggi cercheremo di capire le relazioni tra i soggetti che sono costantemente utilizzati dal capitale che sono costantemente interpretati dal capitale e la natura e il mondo di loro, perché come sappiamo la natura è anche un termine neutro, ma è un termine che può continuamente essere reinventato e usato. Quindi qual è la relazione tra l'oppressione verso le donne, verso le soggettività LGBTQIA+, qual è l'oppressione verso quelle soggettività che non si riconoscono nel binarismo di genere e il dominio sulla natura, qual è la relazione che intercorre tra questi due aspetti? Quindi stiamo cercando di analizzare qual è la relazione tra l'oppressione verso le donne, le soggettività di tutti quei LGBTQIA, le persone che sono stati oppresti dalla nostra società e anche tra le soggettività che non si riconoscono nel binarismo di genere e la natura e l'exploitation della natura. Ad esempio con l'aiuto del tavolo Terra, Corpi, Territori di Non Una Di Meno, andrò a breve a spiegare che cos'è il movimento Non Una Di Meno, andremo proprio a comprendere meglio che cosa significa questa parola, questo concetto dell'ecotransfemminismo e qual è l'intersezionalità che porta dentro di sé. Quindi, per esempio, con l'aiuto del tavolo Earth, Bodies e Territories di Non Una Di Meno, Non One Less, Nì Una Menos, che stiamo cercando di raccontare breve come si tratta, che stiamo cercando di analizzare le relazioni profonde tra l'oppressione dei soggetti subalterni e dei soggetti subalterni, dei soggetti subalterni e dell'oppressione della natura. Basta pensare come l'uomo bianco utilizza, da un lato, la natura e dall'altro le soggettività oppresse per soddisfare i propri bisogni. Ma non solo, oggi andremo anche a capire meglio quali possono essere le connessioni con le lotte dei popoli indigeni e, in particolare, delle donne indigene. Il terzo nodo che proveremo a sviluppare oggi è quello dell'antispecismo, su cui sicuramente da parte dei movimenti italiani, almeno quelli qui presenti, c'è una grande necessità di imparare e di comprendere che cosa significhi. E la terza domanda che proviamo di analizzare, che proviamo di raccontare, è l'iscia dell'antispacismo che sicuramente deve essere analizzato e deve essere capito soprattutto dagli movimenti italiani. Forse per chi è italiano, ma probabilmente anche per gli europei, abbiamo la notizia mainstream che ha portato la questione antispecista alle orecchie di molti, è stata quella della liberazione degli animali a Green Hill qualche anno fa e che, se vi ricorrate bene, scatenò un grande dibattito all'interno anche delle componenti di movimento. So, probably for Italian movements and maybe European movements, the happening that sparkled the debate about the issue of antispecism was the action of freeing the animals from Green Hill, that sparked a lot of debate in Europe about this issue. Quindi, insomma, proveremo a capire anche come l'antispecismo non è affatto una questione trasversale dal punto di vista politico, ma invece è chiaramente situata politicamente, deve essere ovviamente anticapitalista e portare con sé tutte quante quelle che sono le istanze dei movimenti italiani. Quindi, per racchiudere tutte quante queste cose possiamo dire che oggi andremo a discutere chiaramente che tutti quanti i privilegi devono essere messi in discussione. Per fare questo abbiamo con noi Beatrice Ornella e Marita, che fa da traduttrice, che fanno parte di questo tavolo che si chiama Terra Corpi Territori, che a breve vi verrà spiegato, insomma, spiegheranno, racconteranno bene quali sono i loro punti di vista, cos'è che portano avanti dal punto di vista politico. Come dicevo, fanno parte di Non una di meno. Non una di meno è un movimento che in Italia è nato dopo le grida che arrivavano dall'Argentina e che dicevano Ni una meno, basta, non potrà esserci nessun'altra vittima del femminicidio e della violenza macista. E così centinaia di piccole assemblee sono nate in tutto il territorio e hanno portato avanti grandi mobilitazioni con centinaia di migliaia di persone in piazza. Poi parleremo con Julie Cumont, una ricercatrice francese, attivista, antispecista, che vive e lavora nel santuario Levernù, nel centro della Francia. E ovviamente con lei andremo a scandaliare meglio, a comprendere meglio la questione dell'antispecismo e come questa si intreccia all'interno delle battaglie anticapitaliste e delle battaglie transfeministe. E poi abbiamo Moira Millan che arriva dall'altra parte dell'oceano. Moira fa parte delle... è un attivista Mapuche, fa parte del coordinamento delle donne indigene Mapuche e oggi vi dirà che questa è anche la giornata dedicata alle mujeres indigenes. e quindi abbiamo con noi Moira Millan che arriva dall'altra parte dell'oceano e che è un attivista Mapuche e come vi dirà, oggi è anche il giorno dell'officiale delle donne indigenese, Moira è leader del movimento Mapuche, è sceneggiatrice e autrice e inoltre è la prima donna indigena a cui è stato pubblicato un libro in tutto quanto il Sud America. Ah, il primo romanzo, scusate. So, she is one of the leaders of the Mapuche movement, she is an author, she is a writer and she is the first indigenous woman whose novel has been published all over South America. e ovviamente con Moira ci confronteremo rispetto anche a modi differenti di praticare le lotte che qui chiamiamo femministe ma che non per forza dall'altra parte dell'oceano hanno lo stesso nome o fanno parte, abbracciano gli stessi concetti che, o meglio, lo stesso linguaggio che utilizziamo noi perché poi a conoscersi le pratiche sono assolutamente simili e i nemici e le lotte sono le stesse. So, with her we will have the opportunity to discuss about different ways in which struggles are brought on across the world because these struggles may differ in names, they may differ in languages but if we dig deep we understand that the enemies and oppression are always the same. Quindi, adesso cominciamo lasciando la parola a Beatrice, vi preghiamo di avere un po' di pazienza perché tenteremo appunto di tradurre tutti gli interventi che probabilmente saranno un po' più lunghi del previsto ma in modo che possano davvero tutti quanti, tutto quanto partecipare a questo dibattito. Grazie. Grazie.